buonasera buonasera ragazzi buonasera a tutti come va come va spero che vada tutto bene siete pronti per stasera spero siate pronti io sono pronti intanto non sto facendo la pipe facendo la barba e poi come state per uscire bene perché stasera sera c'è inter sampdoria volevo andarla a vedere ma purtroppo non ho avuto tempo non ho avuto tempo non neanche avuto tempo per farmi la barba la sto facendo a quest'ora e speriamo di combinare qualcosa la vedo dura la vedo dura la c'è il fratello di quello che c'è in culeto a derby l'anno scorso mannaggia mannaggia però vabbè vediamo vediamo un po come può andare come non può non andare comunque speriamo bene se riesco stasera faccio un video se no lo faccio domani visto che domani posso farlo o ce n'è andata la schiuma sulla maglietta mannaggia le cani speriamo bene speriamo bene non ho letto niente finito appena finito di lavorare non ho letto niente non so con che formazione usciamo non so con che formazione scendiamo in campo non so non so un ghezzo speriamo bene speriamo che non so speriamo che andanovi ci pari come sempre speriamo che domani posso fare un video con andanovi ci 10 speriamo che maurito faccia volo volo fa perisic speriamo anche faccia volo anche andanovi così dico andanovi ci voto 30 speriamo bene speriamo che screener l'ex 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 della partita speriamo faccia una grande partita anche lui vedremo un po vedremo un po vedremo un po che combina mister spalletti con che formazione scende vedremo anche le sue reazioni dalla panchina vedremo un po come va come non va comunque ragazzi forse inter a ma la